Il corale Vaterunser im Reich è un inno di Martin Lutero, il quale praticamente scrisse la paraprasi della preghiera Padre Nostro nel 1539, corrispondente alla sua spiegazione della preghiera nel suo piccolo catechismo. Lutero rivede il testo più volte come dimostrano i manoscritti esistenti per chiarirlo e migliorarlo. La melodia è quella di Valentin Schumann del 1539. Schumann era un importante editore a Lipsia nei primi decenni del Cinquecento. Pubblicò varie edizioni dell'innario di Lipsia a partire dalla prima edizione con 88 corali proprio nel 539, subito dopo che Lipsia accettò i cambiamenti introdotti dalla riforma. Bach ha lasciato ben sei versioni del paternoster e ognuna si distingue nettamente dall'altra per forma e contenuto. In questa dell'Orgel Brooklyn emergono i motivi della quiete nella polifonia delle tre parti dell'accompagnamento, le quali si imitano a vicenda per moto retto e non, mentre la melodia del corale è presentata alla voce più acuta. Propongo, visto il carattere del brano, un'esecuzione meditativa, tempo moderato, una registrazione che favorisca l'introspezione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.